La prima cosa che mi è rimasta impressa a me fu l'alluvione di Firenze, in cui ci furono tantissimi studenti da tutto il mondo che vennero a salvare quel patrimonio assoluto di Firenze. Quello fu la prima cosa che mi lasciò sbalordito perché ero anche abbastanza giovane e poi mille volte, anzi milioni di volte che vedo i volontari che sono sempre pronti per aiutare nei momenti più complicati del mondo. Tante volte anche i volontari che aiutano le grandi manifestazioni sportive, che se ne parla poco, loro sono la spina dorsale dell'organizzazione e lo fanno con molta più passione di tanti professionisti.